E' bello amare il calcio. Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. Gentili amiche ed amici sportivi ben ritrovati con lo spettacolo della Serie A Team. Ventitresima giornata in campo Juventus e Sassuolo all'Allianz Stadium. Una sfida importante per la Juventus nel testa a testa con il Napoli, ormai fortificato dal passare delle giornate e anche dalle crescenti difficoltà delle rivali sempre meno dirette, sempre più lontane. Dalla testa della classifica. E' iniziato il primo tempo di Juventus a suolo. Pjanic dalla bandierina. Bernardeschi, crosteso, Alexandro il rimbalzo, Pjanic, Alexandro il dribbling, ancora per Rugani il rimpallo. Alexandro passa in vantaggio la Juventus. Il gol di Alexandro al nono minuto di gioco. C'è Bernardeschi che però si porta verso l'area. Pjanic palla tesa e c'è il gol di Chedira. 2-0 per la Juventus. Ha segnato Sami Chedira al ventiquattresimo minuto. La difesa del Sassuolo sta fondamentalmente a guardare. Chedira, Chedira dentro l'area. Chedira è da solo. Chedira. 3-0. 3-0 per la Juventus al ventisettesimo minuto. Una voragine nella difesa del Sassuolo. Si inserisce Sami Chedira che infila il gol del 3-0. Il suo sesto gol in questo campionato. Ancora il pallone tra i piedi di Berardi. Attenzione, Lirola! Si oppone Buffon in calcio d'angolo. Marchisio verso Chedira. Libera per Pjanic. Il gol del 4-0. 4-0 per la Juventus al trentottesimo minuto. La sassata di Miralem Pjanic. Calcio d'inizio del secondo tempo di questa sfida tra il Sassuolo e la Juventus. Aleksandro, poi Pjanic. Pjanic, Marchisio, Pjanic. Poi Bernardeschi, il sinistro. Respinge consigli. Pjanic si sovrappone Sturaro. Affiancato da Aleksandro. Sturaro va verso il centro. Ancora per Bernardeschi. Iguain. Iguain 5-0. Il gol di Gonzalo. Iguain Juventus 5-0. Il controllo, il diagonale. Il gol del giocatore argentino. Marchisio. Per Iguain. Posizione regolare. Iguain, il dribbling. Iguain 6-0. Il gol del 6-0 per la Juventus. Doppietta di Gonzalo Iguain. Fa tutto da solo Iguain. Poi Marchisio. Bernardeschi. Per Iguain. Iguain 7-0. Il 7-0 della Juventus. Tripletta di Iguain. All'ottantatresimo minuto. Si porta il pallone a casa. A posto così. Finisce con la vittoria della Juventus. 7-0 sul Sassuolo in questa ventitresima giornata della Serie A Team.